A Montesilvano, in un piccolo borgo nascosto al via vai del traffico, Abruzzoratte, la tradizione della cucina abruzzese, con la cordialità e la passione di Elisa e Marco. Tante specialità tipiche, la pecora alla callara, gli arrosticini, le pallotte cacio e ovo, la pasta fresca fatta a mano e interessanti novità gastronomiche.